A chiusura delle commemorazioni per i giorni della memoria e del ricordo, il Comitato Resistenza del Consiglio regionale ha promosso la presentazione del volume 600.000 no, la resistenza degli internati militari italiani. Prima del dibattito è stata proiettata una versione ridotta del film documentario, realizzato nel 2007 dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, sull'epopea degli internati militari italiani.